Ragazzi, oggi parliamo di colloquio telefonico. Avete mandato candidature ad un po' di aziende, mi raccomando cercate sempre di inviare candidature di qualità, e ora vi preparate a ricevere le prime telefonate. E ad un certo punto, nel momento peggiore possibile ovviamente, ricevete la telefonata del selezionatore. Il nostro obiettivo per questa telefonata è molto semplice, ovvero arrivare al colloquio di lavoro. L'obiettivo del selezionatore è altrettanto semplice, ovvero si deve assicurare la nostra reale motivazione per l'iter selettivo e il fatto che siamo delle persone a modo, e quindi cioè certificare il fatto che siamo motivati e siamo presentabili. Fatta questa premessa, ora entriamo nel dettaglio. L'obiettivo di questo video è spiegarvi come funziona a 360 gradi il colloquio telefonico, quali cose non bisogna assolutamente fare nel corso del colloquio, e soprattutto come rispondere alle domande principali che vengono fatte durante questo step dell'iter selettivo. Come sempre ragazzi, vi invito a lasciare un bel like per supportare questi contenuti, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Poiché come sempre non voglio dire le classiche cose, io do abbastanza per scontato che voi, se vi trovate in un luogo rumoroso, non rispondiate alla telefonata, oppure cercate sempre di ricordarvi le candidature che avete inviato per non fare figuracce durante il colloquio telefonico. Quindi non voglio ripetermi in queste banalità. Quello invece che voglio dirvi sono tutte quelle cose che magari voi state trascurando, ma che in realtà sono fondamentali per l'esito positivo del colloquio telefonico. E una di queste cose, ovvero secondo me la cosa principale, è l'approccio alla telefonata. La situazione quando il recruiter vi telefona è più o meno questa, ovvero lui ha le sue belle cuffiette collegate al software di telefonata sul pc, e sul monitor ha il vostro bel curriculum gigantesco. Quindi quando vi chiama sa già se siete allineati all'opportunità e quanto siete allineati all'opportunità. Il selezionatore vuole solo avere un contatto con voi, testare la vostra motivazione al cambiamento e potervi invitare al colloquio di persona. Quindi il nostro obiettivo è non fare nulla per impedirgli di invitarci al colloquio. Prima ho parlato di approccio. A cosa mi riferisco per approccio? Cioè cosa dobbiamo evitare? Quando telefonavo per i colloqui telefonici c'erano due cose che odiavo nella maniera più assoluta. La prima era quando il candidato che telefonavo mi diceva che non era assolutamente disponibile e poteva rispondere solamente in pausa pranzo o dopo le 18. Questa è una cosa che proprio non sopportavo perché significa che, punto primo, non sei particolarmente motivato per l'iter selettivo visto che non riesci a ritagliarti 10 minuti. E, punto secondo, io non credo che tu faccia il cardiochirurgo e che quindi non riesci a ritagliarti un piccolo momento nel corso della giornata lavorativa per fare questa telefonata. Ci sta che tu sei impegnato nel momento in cui ti telefono, per l'amor del cielo lo accetto, lo capisco, però preferirei che tu, seppure fossi impegnato, dimostrarsi un minimo di proattività. Quindi, se proprio quando vi chiama il selezionatore proprio non potete rispondere, proponete voi degli orari. Per esempio, guardi, in questo momento proprio non posso rispondere, sto per entrare in unione oppure sto guidando, posso richiamarla io tra una mezz'oretta, tra 20 minuti, già una cosa del genere è più tollerabile. Quindi, o non rispondi proprio e chiri telefoni magari quando hai più tempo per gestire la telefonata, oppure in alternativa rispondi e dici, guardi, in questo momento non riesco a dedicarle del tempo perché sto facendo questo, la posso richiamare tra 10 minuti. E così per risolvere il problema non risposta. Quindi evitate di dire pausa pranzo o dopo le 18. La seconda cosa, invece, che proprio non tolleravo e non sopportavo era parlare con persone che al telefono erano dei cadaveri, cioè persone spente. I selezionatori generalmente sono ragazzi dai 25 ai 35 anni, quindi tendono ad essere molto gioviali e molto colloquiali telefonicamente. Se io ti telefono per invitarti a colloquio e sei cadaverico, punto primo non mi fai una bellissima impressione. Io posso capire l'ansia, posso capire tutto, però non mi dai l'aria di essere una persona svelta, attiva, anche piacevole con cui averci a che fare. E punto secondo, se ti telefono per invitarti a colloquio e non sei contento, ecco, io qualche dubbio sulla tua motivazione me la faccio. Quindi cercate di sorridere e di essere gioviali mentre parlate a telefono. Anche perché il sorriso per telefono si percepisce. Si può essere seri anche sorridendo, quindi il consiglio principale è sorridete, cercate di essere gioviali mentre parlate telefonicamente. Vi assicuro che se parlate sorridendo, il selezionatore se ne accorgerà e vi registrerà automaticamente con una persona piacevole con cui avere a che fare, è anche motivata perché contenta a proseguire con l'iter selettivo. Quindi la cosa principale, il consiglio principale che vi do è di curare l'approccio alla telefonata lavorando su questi due punti che vi ho detto in precedenza. Guardate che per me personalmente l'approccio valeva per il 70% dell'esito positivo della telefonata, quindi è fondamentale. Ora passiamo a quelle che sono le domande che vengono fatte durante questo step del liter selettivo. Generalmente sono tre e sono Parlami di te, cioè cosa stai facendo in questo momento, perché ti stai guardando intorno per testare le tue motivazioni, cioè perché, quali sono le tue motivazioni al cambiamento. E la terza domanda è generalmente legata alla tua situazione contrattuale, cioè qual è il tuo pacchetto retributivo e serve per capire quando sarai disponibile per iniziare una nuova esperienza lavorativa. Partiamo dalla prima domanda e come rispondere. Parlami di te. Bisogna brevemente riassumere il proprio background e andare su quello che si sta facendo in questo momento, riassumere quello che si sta facendo in questo momento, andando a toccare le fasi principali della job description dell'annuncio di lavoro. Qualora in questo momento noi siamo disoccupati, possiamo andare a recuperare dalla nostra esperienza delle cose, dei frammenti che sono affini all'annuncio di lavoro per il quale ci stiamo candidando e per il quale stiamo facendo il colloquio telefonico. In merito a questo vi consiglio di andare a consultare un video che ho fatto proprio completo per rispondere a questa domanda si chiama Parlami di te, magari lo metto qui sopra da qualche parte, in modo tale che attraverso quel video voi riusciate ad articolare una risposta efficace anche per il colloquio telefonico. La seconda domanda invece, perché si sta guardando intorno, è probabilmente il nucleo principale della telefonata e serve per capire la tua motivazione a cambiare lavoro. In questa domanda è importantissimo non essere generici, ma riuscire ad andare proprio nei motivi principali e specifici per questa specifica candidatura. Cioè non andando ad elencare i motivi generici che ci spingono al cambiamento, piuttosto andando ad elencare i motivi che ci hanno spinto a candidarci per questa specifica opportunità. Anche in questo caso vi invito ad andare a consultare un video che ho fatto in merito a questa specifica risposta, anche questa volta ve lo metto qui sopra, in modo tale che possiate riuscire ad articolare al meglio una risposta anche per questa domanda. Un piccolo consiglio generale per rispondere a queste due domande sono quelle di non dedicarci troppo tempo, ovvero riuscire per la prima domanda ad articolare una risposta in 2-3 minuti e per la seconda in 1-2 minuti, in modo tale da non appesantire la telefonata, perché considerate che telefonicamente non deve durare il tutto più di 15 minuti, e di riuscire a toccare tutti i punti principali in poco tempo. Perché è importante che la telefonata sia quanto più scorrevole possibile. La terza domanda invece è relativa alla nostra contrattualizzazione e serve ovviamente innanzitutto per capire se siamo a budget con quella che poi sarebbe la proposta contrattuale dell'azienda per il quale stiamo facendo l'iter selettivo e seconda cosa per capire il nostro periodo di preavviso, cioè da che momento siamo liberi. Chiaramente se siamo occupati, il mio consiglio è di rispondere serenamente a questa domanda, dire il nostro pacchetto retributivo e dire anche il nostro periodo di preavviso. Questa è una domanda positiva perché significa che comunque il recruiter è interessato al nostro profilo e vuole sapere da quando siamo disponibili e generalmente questo fa tanta differenza in un iter selettivo perché le aziende tendono a prendere persone che riescono a liberarsi facilmente perché l'esigenza è urgente. Invece se siamo disoccupati, chiaramente generalmente forse non viene fatta questa domanda, ma qualora ci venisse fatta possiamo serenamente dire che in questo momento siamo in ricerca attiva e siamo disponibili da subito. Quindi ce ne usciamo in questa maniera molto tranquilla visto che probabilmente è qualcosa che abbiamo già affrontato precedentemente nell'iter selettivo. Se riuscirete a rispettare queste direttive con un po' di pratica, soprattutto per l'approccio, vi faccio vedere che qualunque telefonata si trasformerà in colloquio. Ragazzi, per oggi è tutto. Siete pronti per rispondere a tutti i selezionatori che volete. Mi raccomando, sorridete mentre lo fate e alla prossima!